Vi facciamo vedere alcune immagini dell'evento più atteso dell'estate di Francavilla al mare, ovvero gli spettacolari fuochi pirotecnici che anche quest'anno non hanno tradito le attese. Ieri sera ad assistere ai fuochi a mare in onore di San Franco sono stati in migliaia intorno a mezzanotte tutti con il naso all'insù per godersi lo spettacolo colorato che quest'anno è stato distribuito su tre punti della città all'asterope, al pontile, sul lungomare Tosti per evitare eccessivi assembramenti nella zona del Palazzo Sirena. Una novità che è piaciuta molto e che vi facciamo gustare per alcuni secondi con le immagini realizzate dalla Icaro Droni che ci ha girato l'amministrazione comunale. La notte dei fuochi a mare è stata una nottata magica per Francavilla, sto ricevendo apprezzamenti unanimi da tutti i cittadini e da tutti gli operatori economici. I fuochi a mare sui tre punti della città hanno consentito a tutta la città di vivere, a tutte le attività commerciali di lavorare ed è stata veramente una serata magnifica, tutti con i nasi all'insù, occhi al cielo per vedere uno spettacolo davvero straordinario. La città si è riempita di gente in ogni punto e il weekend non è finito perché da questa sera comincerà il cenacolo al Paese Alto con altri tre giorni davvero di festa della città di Francavilla. La città di Francavilla Grazie. 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 Grazie.